buonasera vi siete mai chiesti mentre siete seduti sulle vostre comode poltrone quanto possa essere utile leggere un libro bene e per rispondere a questa domanda che ci siamo spinti dalle profondità delle nostre classi sino a questo ambiente apparentemente in ospitale veramente a me sembra molto accogliente con tutti questi colori queste decorazioni è davvero un luogo particolarmente caloroso altro che ed ecco qui un esemplare molto eralo di letture se facciamo il silenzio possiamo anche sentire il suo ruggito se siamo fortunati ma che stai dicendo io sono qui solo perché ho la possibilità di scambiare un mio libro con un altro questo è l'angolo del book sharing in cui ogni alunno liberamente può venire qui per lasciare un suo libro e prendere un altro in cambio pensate una volta a cui alle mie spalle era tutta campania adesso di quell'epoche ci restano solo strane incisioni e dei resti di tirannosaurus rex veramente questi sono alcuni quadri realizzati dagli alunni e quelli non sono resti di tirannosauro è il busto di dante alighieri diamine e questo che vediamo qui cos'è probabilmente deve trattarsi di un prezioso calendario astica chissà quali misteri ci nasconde forse non lo sapremo mai tu sei completamente fuori questo non è altro che il registro in cui ogni alunno segna il libro che prende e anche quello che lascia volendo potrebbero lasciare anche un commento personale invogliando qualcun altro a prenderlo e leggerlo questo è il fantastico angolo del book sharing basato sulla lettura e momenti di socializzazione tra noi ragazzi in questo modo tutti quanti possono prendersi cura di questo ambiente sapendo che tutti i libri non sono di nessuno ma sono un patrimonio di tutti ed è con queste parole cose punemiche che vi restituisco la linea mentre io esamino questo manto erbuso e su di esso questo albero secolare che se ne sta qui a passare gli anni questi non sono altro che un tappeto e una sedia a zondolo di minimi vabbè dopo tutto la lettura aiuta a sviluppare la fantasia grazie